Facciamo entrare il secondo eliminato di questa sera, Elenoir Casalegno. Allora avevo ragione! Avevo ragione! Grande! Dai! Vieni Elenoir! Ecco, accomodati sulla stella bianca! Rivenendo le immagini di 42-43 giorni fa, sembra passata una vita, sembra una vita, mi sono persa qualcosa forse, mi sa. Sì, Brad Pitt e Andrea Giolissi sono lasciati. Ah sì? Ammazzo! Ma dalla notizia che è stato Alfonso? Allora Elenoir, qual è il momento che ti porterai nel cuore? C'è stato un attimo, un momento che hai vissuto? Guarda, c'è stato più di un attimo, sembra folle quello che sto per dirti, però i momenti più belli, quelli più emozionanti, quelli più forti, quelli più allegri, quelli più disperati appartengono alla cantina. Quindi la cantina è proprio di rimasta nel cuore? Sì, sì. Infatti io l'ho chiesto più volte di poter andare in cantina da sola. Perché poi è stata la tua prima entrata, no? Noi siamo partiti da lì, sì, con un labbro spaccato e la cantina. Ce lo ricordiamo tutti! Però da lì... Perché io o inizio Corbotto o se non no. Brava, però da lì è stato un feeling pazzesco con Stefano. Grazie.